Ma avevamo presi in giro ma in realtà siamo in un servizio bevereccio? Ma come bevereccio? Cos'è questo? No, vabbè dai, stiamo scherzando, in realtà questa è acqua sporca. Ma io sono un ex alcolista anonimo, anonimo, insomma mi chiamo Massimiliano. Però non posso bere. E' alcol questo? No, è acqua sporca, te li stiamo prendendo in giro. Non siamo in un servizio dove si beve. A limone. A limone, vabbè. Non siamo in un servizio dove si beve, non siamo in un festival della birra. Ma siamo a? Vabbè dai, lo possiamo dire. Lo possiamo dire. Siamo a fermentazione. Fermentazione, il festival della birra italiana, solo italiana. Della birra italiana? Non è birra questa. Il festival è della birra. Il festival è della birra, noi però beviamo tè. Tè, noi beviamo soltanto tè. Anche perché Massimiliano ha detto Castemio. Ma non doveva venire anche Ettore, scusa, ma ha detto sì, ci vediamo qua a fermentazione. Eh sì. Però non so, è ritardo forse, ma tu l'hai visto? Io non l'ho visto, veramente. No, neanche io, vabbè, forse dovrebbe arrivare. Comunque, vabbè, noi cominciamo. Noi cominciamo, tu bevi, io no, ovviamente. Io bevo, tu no, però andiamo ad esplorare, insomma, il mondo della birra italiana. A me interessa, non lo sappiamo tutti. A me no, però il lavoro è il lavoro, quindi bisognerà andare a vedere. È un lavoro, ma qualcuno deve por farlo. Qualcuno deve por farlo. Non Ettore, però, te l'hai visto? Non è, Ettore ha detto che veniva, io non... Vabbè, Ettore comunque non c'è, quindi ci bastiamo. Sì, dobbiamo andare al lavoro noi. Dobbiamo andare al lavoro, ovviamente, a vedere come c'è questo evento, che anche se noi non beviamo, ci sembra abbastanza interessante. Sì, mi sembra un lavoro interessante, è vero. Io vado di qua, però, eh. E invece vado di qua. A dopo. Dai, a dopo. Sono qui con l'organizzatore, il vero quale pulsante di questa manifestazione, ovvero Andrea Turco, a cui do un calorosissimo benvenuto. Andrea, ti chiedo, quanti anni è che portate questa manifestazione qui a Roma? Guarda, questo è il quinto anno, quindi sono cinque anni e si sta concludendo la quinta edizione. Quindi, diciamo, i numeri, a livello di numeri, dalla prima edizione fino a oggi, come sono cresciuti? Ma guarda, sono cresciuti sia quantitativamente che da un punto di vista qualitativo, diciamo, la gente che viene a fermentazioni rispetto ai primi anni è un po' più preparata, quindi fa domande un po' più tecniche rispetto alle domande che faceva cinque anni fa. Secondo te perché? Beh, perché, beh, la birra artigianale perché si sta diffondendo molto a Roma e in tutta Italia, si sta facendo un bel lavoro, secondo me, anche di comunicazione, di quella che è la cultura proprio, quindi la gente bevendo apprende anche molto e entra in questo mondo con maggiore competenza. Hai detto, infatti, una cosa che io condivido, perché appunto da romana e da amante delle birre, quali molti sanno, ho visto appunto che c'è una grande diffusione di questa cultura, di questo mondo. Perché hai scelto proprio solo, esclusivamente l'Italia, piuttosto che magari l'Europa, altre parti del mondo? Sì, allora, qui a fermentazione abbiamo 30 birrifici, tutti soltanto italiani, chiaramente da tutta Italia, quindi rappresentato sia il nord Italia, il sud Italia e chiaramente anche Roma e Dintone, insomma il centro più in generale. Il taglio che abbiamo voluto dare è proprio incentrato solo sull'Italia perché, secondo me, secondo noi, l'Italia in questo momento rappresenta uno dei paesi emergenti per quanto riguarda la birra artigianale, ma non lo diciamo noi, lo dicono gli esperti di tutto il mondo e quindi dare anche, far conoscere le eccellenze italiane e brassicole che abbiamo a disposizione, secondo me, è una bella cosa e vale la pena dedicargli un intero festival. Senti, una domanda un po' più personale, la tua birra preferita, se ne dovessi scegliere anche solo una o magari dai anche un paio, te lo facilito, in questo festival, in questa esposizione? Ovviamente mi metti in difficoltà. Eh, lo so, però ci piace tanto mettere in difficoltà. Ti posso dire qual è la tipologia che mi piace di più in questo momento? La tipologia è il birrificio, dai, ce la possiamo fare. Guarda, va bene, ne spendiamo uno, visto che siamo a Roma, mi piace molto in questo momento come sta lavando Ritual Lab di Formello, che sono ragazzi giovani, entusiasti, soprattutto molto studiosi, che è una cosa che non deve mai mancare nella birra, perché fare birra artigianale non significa fare birra bene a prescindere, bisogna saperla fare innanzitutto. Quindi se tu hai passione, studio e voglia di crescere, hai già fatto molto. E il tuo stile? Il mio stile vado un po' a momento, in questo momento lo stile delle season mi piace particolarmente. Va bene, condivido se posso, ti ringrazio tantissimo, Andrea, è stato un piacere. E noi continuiamo il nostro giro qui a fermentazione. Girando per fermentazioni sono approdata in Campania, ovvero a Sorrento, infatti mi trovo qui con... Giuseppe Schisano del birrificio Sorrento, che sono del birraio. Bene, e io sono approdata qui proprio perché ero curiosa di assaggiare delle birre di questa terra che non ho mai assaggiato. Quindi ti chiedo che cosa portate quest'anno qui e soprattutto se è il vostro primo anno a fermentazione. No, noi abbiamo partecipato a fermentazioni fin dalla prima edizione. Per quest'anno abbiamo seduto in panchina i nostri cavalli di battaglia, quindi la Sirentum con la buccia del limone e la Minerva con la buccia dell'arancia. Abbiamo voluto mettere in campo le nostre novità. Abbiamo messo tre Italian Greppel, quindi sono delle birre legate al mondo del vino. La nostra filosofia di Italian Greppel è che comunque il prodotto finale deve rimanere birra, dove poi il mosso deve dare un qualcosa in più come profumo, come bevuta e col tempo e la maturazione in bottiglia o in fusto darà anche un po' di acidità tipica del vino. Abbiamo quindi portato anche, soprattutto, un Italian Greppel che è una Session. Session è un termine anglosassone che sta ad indicare un'abilità defaticante, da dopo lavoro, facile da bere, 4 gradi e mezzo. Ed abbiamo un po' invertito quello che era la nostra filosofia delle prime due iga, in quanto nella Ligia e nell'Elea andavamo un attimino ad assecondare un po' più la forza del vitigno. Nella Hobis, invece, abbiamo piegato la forza del vitigno, la freschezza della birra e quindi abbiamo avuto veramente una summer beer. I vitigni che utilizziamo sono tutti delle nostre zone, vitigni autoctoni, sono anche molto spesso vigne estreme, interrazzamenti da un metro, un metro e mezzo, dove ci sono le rotaie che portano dal mare fin su al monte le casse con l'uva. Quindi vitigni che fanno parte della nostra terra, della nostra storia e ci piace valorizzarli e portarli in quella che è la nostra passione e il nostro lavoro che è la vita. Quindi parliamo della Biancolilla di Ischia, della Falanghina dei Campi Frecrei e dell'Aianico di Taurasi. Visto che è molto strano sentire appunto il vino trasposto in birra e viceversa e visto che qua a Pannimun noi siamo un po' e un po', metà e metà, quindi dedichiamo sia tempo alla birra e sia tempo al vino, io ti chiederei quasi incuriosita di assaggiare quella che secondo te è la tua preferita. Allora, la mia preferita non esiste perché le birre per me sono come i figli, però ti posso far assaggiare quella che... Biancolilla di Ischia ed ha una freschezza incredibile, con i 4 gradi e mezzo non ti farà sicuramente sudare. E poi secondo me è anche fresca come te. Allora non mi resta che assaggiare, prindo alla tua e alla vostra, anche se non hai birra e mi questo dispiace molto, lo sai. Stiamo provvedendo. Alla vostra. Anche se hai mai parlato appunto di quelle caratteristiche che hai il vino, poi di come tanto ne hai parlato, effettivamente è una birra che però va giù che è un piacere, si può dire, è proprio estiva, beverina, ci sta tutta, quindi quella birra che non ti stanchi mai di bere. Meno male, meno male. Io quindi continuo il mio giro, vi ringrazio estremamente e venite insieme a me a continuare questo giro. Iscriviti al nostro canale e venite insieme a me a continuare questo giro. Ciao!